la giornalista ha commentato il modo in cui il conduttore e l'imprenditrice hanno deciso di annunciare la fine del loro matrimonio selvaggia lucarelli poteva fare a meno di commentare una delle notizie della settimana vale a dire l'annuncio della separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli naturalmente no e infatti puntuale come un orologio svizzero è giunto il suo parere che manco a dirlo è stato caustico la giornalista non ha ragionato sulle cause della fine della love story quanto piuttosto sulla modalità che la coppia anzi ormai ex coppia ha scelto di utilizzare per divulgare la notizia per chi non lo sapesse il conduttore e l'imprenditrice hanno parlato ampiamente del loro crack matrimoniale con la rivista vanity fair la quale gli ha dedicato una cover patinatissima va da sé che nel realizzare l'intervista e le foto bonolis e bruganelli si sono prestati a scatti di vario genere non solo si sono confidati seduti uno di fronte all'altra in mezzo a dirigere il traffico il giornalista di vanity fair una situazione non proprio sobria a differenza di altre vicende vip simili ad esempio si vede il caso unziker trussardi che hanno preferito una comunicazione low profile una nota congiunta e stringata rilasciata a danza il conduttore romano e la produttrice invece hanno come sopra puntualizzato optato per una cover ultra patinata e per una video intervista fiume e selvaggia lucarelli cosa ne pensa il falò di confronto tra bonolis e bruganelli non me lo aspettavo ha cinguettato su twitter citando indirettamente temptation island programma di canale 5 in cui i fidanzati in crisi decidono di confrontarsi innanzi al celebre falò orchestrato da filippo bisciglia